ehi vieni qua che succede qua? ma ci sta provando? Elio? già con Cato? tiene sopra quanto vorrei essere nei panni io non vorrei essere nei panni di lei e piuttosto ma lo vuole a tutti i costi Lady, 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 don't want to feel so funny, oh lady, 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 let me touch that heart of you, don't want me to. Lady, 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 lady Grazie.